Botta e risposta tra l'ex assessore Silvio Paolucci e l'attuare titolare della Sanità regionale Nicoletta Verì sulla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sulmona, dopo che il Ministero ha chiesto a Regione Abruzzo di indicare una data certa entro la quale il reparto chiuderà i battenti. Paolucci attacca il governo giallo-verde le promesse fatte in campagna elettorale sulla volontà di sventare la chiusura del punto nascita. Dopo le promesse della campagna elettorale di Salvini, della Meloni o anche del Ministro Grillo la realtà è che il governo ha intimato la chiusura del punto nascita chiedendo gli atti che documentino questa chiusura. Nulla dunque è cambiato salvo l'aver preso per i fondelli tanti cittadini e gli elettori nel Sangro, nella comunità Peligna e in questa regione. Noi avevamo concluso la legislatura aprendo un pertugio, una porta chiedendo una deroga che ovviamente dal punto di vista degli argomenti anche all'interno della rete ospedaliera può essere ulteriormente rafforzata di contenuti dal governo regionale. Sostenere che l'attuale governo regionale non stia facendo nulla a tutela del punto nascita di Sulmona è semplicemente e colpevolmente falso, ribatte l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. Sono anni che il tavolo di monitoraggio ministeriale, spiega l'assessore, chiede la chiusura della struttura perché non rispetta gli standard di sicurezza. Ma chi mi ha preceduto non ha fatto assolutamente nulla per individuare una soluzione alla vicenda, si è semplicemente ignorata la richiesta. L'assessore infine chiarisce i motivi per i quali il punto nascita di Sulmona non figura tra i temi all'ordine del giorno nella prossima riunione del tavolo di monitoraggio. Non c'è nessun retroscena, rimarca la Verì. Non è tra i punti in discussione semplicemente perché il tavolo tecnico sul riordino della rete ospedaliere attivato in regione sta predisponendo in collaborazione con la ASL Aquilana il cronoprogramma per la messa in sicurezza del punto nascita del presidio Peligno, così da portare a Roma una proposta concreta che potrà essere sottoposta a un esame oggettivo da parte dei funzionari ministeriali.